Che fallo, che fallo, precedente, precedente alla schiacciata di tentitori, incredibile, tentitori era andato a schiacciare, è passato un secondo e mezzo, tentitori aveva schiacciato il pareggio, fa il pallo e era venuto prima della conclusione, il pubblico è tutto in piedi, a bordo campo, due secondi e qualche centesima, la palla per il gol che riesce di simulare, Perguton, schiena, è morto, Perguton, 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 84, 83, che partita, che partita, l'Angelico la vince all'ultimo secondo, incredibile, la bomba è di Jeff Perguton, incredibile, come è successo stasera, al Pana Volcada, una partita tra le più incredibili della storia, viena, la vince all'ultimo secondo!